In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori, e disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatore di uomini, ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le reti e li chiamò, ed essi lasciarono la barca e loro padre e lo seguirono. Se l'ho dato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questa è la parola di oggi, di Matteo, del 30 di novembre, ultimo giorno del mese, del mese dei defunti. Che cosa dire di questa parte di Vangelo? Che, essendo appunto la festa di Santa Andrea, è doveroso che ci fosse una citazione del soggetto. Quello che è più difficile da capire è che come mai il narratore, l'evangelista, abbia voluto mettere in sequenza queste due cose. Quali ascesi ci sarà dietro a questo evento? Il signore incontra Pietro e Andrea, che avevano a che fare con le reti, e li chiama, e loro vengono subito. Il signore va avanti e trova un'altra coppia di fratelli, li chiama, e loro arrivano subito. Naturalmente anche questi fratelli avevano a che fare con le reti. Quindi abbiamo una coppia di fratelli, una rete e appunto l'azione, l'avverbio di tempo, subito. Tutte e due queste figure di fratelli. Quindi quello che è il regno dei cieli, che si sviluppa, che prende consistenza, che prende forma, avviene così, con il subito, con la rete e con la fratellanza. Quindi come si sviluppa realmente il regno di Dio? Come si sviluppa realmente il modo di vivere la comunità cristiana? Appunto con la fratellanza, con la rete, che poi la rete è la classica struttura a trame, a maglie, che prende anche tutto quello che è necessario, quindi l'alimento del corpo. Il pesce prende il nutrimento anche di quello che è lo spirito. Praticamente il pesce sarà il miracolo con cui il Signore moltiplicherà. Quindi quel nutrimento, come dicevo prima, dello spirito e anche del corpo. E poi appunto l'avverbio di tempo subito. Quindi quando noi ci imbattiamo in una volontà di costruire qualche cosa verso il Signore, dobbiamo tenere presente appunto questi tre elementi fondamentali, come diceva lui. Appunto, ti manderò due a due e lui ne ha presi due coppie in pratica. Quindi ho preso due fratelli, due a due. E poi, sì, vi farò pescatore di uomini. Però la rete, quel qualche cosa che oggi noi chiamiamo a livello cibernetico, telematico, a livello informatico, la rete, internet, tutte queste cose qui, che ci fanno rientrare in una comunità unica. E poi il subito, quello di agire e agire senza tanti pensamenti. Ci ricordiamo bene quando il Signore ha chiamato le persone attraverso la parabola. Sì, scusami, però adesso ho da fare. Gli rispondevano. No, guarda, mi sono sposato. No, guarda, ho comprato cinque paia di vuoi. Attendi un attimino. Ecco, quel subito. A questo riguardo, poi, io vi consiglierei, come già facevo tempo addietro, il Salmo 6, che finisce appunto nella versione latina subito. Ed è importante questo, perché questo tipo di Salmo previene tante di quelle che sono le negatività, tante di quelle che sono quelle situazioni in cui noi pensiamo di essere forse non in linea col Signore. Il Salmo 6 ci aiuta. E c'è quella parola lì, subito, che ti dà la differenza, che ti fa capire che c'è quel qualche cosa che devi intervenire. O Dio viene a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Ecco. Quindi, di conseguenza, anche noi, quando facciamo una richiesta, e questa è la richiesta base che noi iniziamo, Deus in auditorium, meum intende, quando c'è il rosario. Domina di uvandum, mefestina. Quindi, di conseguenza, bisogna giocare sempre sui tempi. Ecco, sembra una cosa un po' difficile da capire e da interpretare, però ricordiamoci che il Signore stesso ha un modo molto accelerato di vedere. Noi molte volte, quando non vediamo delle grazie, diciamo, il Signore c'è ai Suoi tempi, però probabilmente anche noi non agiamo in tempo. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie a tutti.